Buongiorno, dalla Cantina di Romeo, Osteria in Biarche Scaligerotto, vi presentiamo due piatti in abbinata con due vini, la boccella superiore di Bonfanti e il ripasso di Bonfanti. Lascio la parola ai nostri chef. Buongiorno, sono Valentina, ho qua la mia titolare Camilla. Abbiamo deciso di abbinare il valpulicella superiore con la nostra fettucina all'anatra, fettucina all'anatra ragù che facciamo interamente noi, proprio dalla base del petto dell'anatra, con una lunga cottura. Dopodiché, in abbinata al valpulicella di sempre di Bonfanti, ripasso, abbiamo il nostro diaframma di cavallo, con le patate. Eccoci qua con le nostre fettucine, cotte. Ora le spavigliamo un po'. E poi a questo piatto aggiungerei anche, essendo che il nostro valpulicella superiore è abbastanza deciso, come vino, aggiungerei a fianco, anche sopra, il tartufo nero Umbro. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Siamo tutti insieme e qui invece abbiamo il nostro diaframma accompagnato dal policello a ripasso di Bonfanti.